Avevano catturato uccellini protetti in natura, questa la conclusione dei carabinieri forestali, e poi li avevano messi in vendita alla fiera ornitologica di Reggio Emilia. Ma il blitz dei militari, che hanno controllato negli stand documenti animali, ha svelato il trucco. 235 tra pettirossi, cardellini, fringuelli e tanti altri sono stati posti sotto sequestro. E a quel punto è arrivata la chiamata al centrofauna selvatica al pettirosso di Modena, per sistemare gli uccellini in modo adeguato, in gabbiette dentro cui sarebbero poi stati portati alla struttura di Viano Nantolana. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri, accompagnati dal nucleo Cites modenese, il fatto che i volatili avevano annellini visibilmente modificati o ammovibili, quindi non quelli regolarmente rilasciati. Oltre a questo sono state trovate 487 confezioni di farmaci veterinari scaduti o guasti. 13 persone sono state denunciate per contraffazione e uso abusivo di pubblici sigilli, illecita detenzione e commercio di avifauna protetta, commercio di medicinali imperfetti e uno dei venditori anche di resistenza pubblico ufficiale. Quando ha visto arrivare gli uomini in divisa, ha distrutto una gabbia nel tentativo di liberarsi di quattro cardellini. Tutti gli uccellini sono ora in cura al pettirosso in attesa di poter tornare in libertà.